Buongiorno, good morning Milano, good morning a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, come state? Sono le 7 e 10 di oggi, mercoledì 5 giugno e siamo qui a un nuovo appuntamento, una nuova giornata con Good Morning Milano, una nuova giornata che iniziamo insieme alle 7 e 10 di questa mattina qui sulle onde, le radiofrequenze di Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus è tutta la Lombardia, oppure tranquillamente nel vostro smartphone con le applicazioni, nel vostro computer con il sito, insomma sempre con voi per iniziare al meglio. La giornata, giornata che iniziamo facendo ovviamente i complimenti a Yannick Sinner che è il primo italiano a raggiungere la vetta della classifica ATP del tennis, quindi numero 1 nel mondo, nello stesso giorno in cui 14 anni fa invece c'era la prima italiana che vinceva il Roland Garros, e sì, era lei, Francesca Schiavone che 14 anni fa aveva vinto, è stata la prima donna a vincere il Roland Garros, che è insomma uno dei, come diciamo, del circuito, viene chiamato così, del circuito ATP, è uno delle gare più importanti, dei tornei, uno dei tornei più importanti come Wimbled, insomma, sono tornei importantissimi, il Roland Garros, appunto, 14 anni fa, si è vinto per la prima volta da una donna italiana che era appunto Francesca Schiavone, e oggi festeggiamo invece Yannick Sinner che per la prima volta porta l'Italia alla vetta della classifica dei più importanti e più bravi giocatori di tennis. Grazie Yannick, grazie anche a voi che ci seguite, potete sempre scriverci, vi ricordo il numero di WhatsApp a cui potete scriverci, che è il 3317853555, sempre pronto qui davanti a me a ricevere i vostri consigli, i vostri messaggi, le vostre foto, tutto quello che volete per iniziare al meglio questa giornata e per iniziarlo con un po' di musica, poi abbiamo un po' di informazioni e di giornali locali che possiamo andare a leggere insieme e anche appunto rendervi partecipi, anzi rendervi protagonisti di questa mattinata insieme a noi. Grazie ancora di essere all'ascolto, iniziamo con la musica e poi siamo qui. Michael Jackson, Billie Jean, inizia questa mattinata con noi appunto il grande Michael, come sempre più Michael per tutti, lo diciamo ogni volta che lo mettiamo e spero che questa cosa vi piaccia. E insomma, dicevamo poco fa appunto dell'anniversario della prima donna italiana a vincere l'Angaros 14 anni fa che è stata Francesca Schiavone, ancora auguri e complimenti a Yannick Sinner invece che è stato il primo italiano a raggiungere la vetta della classifica ATP dei tennisti, quindi numero uno al mondo e i numeri uno al mondo per me, siete però voi che ci scrivete tutti i giorni da casa, i vostri whatsapp, come Alberto che ci scrive, buongiorno Fabio, un saluto alla redazione e agli ascoltatori di Crystal Radio, per fortuna che ci siete voi ad alleggerire e rasserenare le giornate, ieri una giornata carica di fastidi, mi spiace Alberto, mi piace come definizione una giornata carica di fastidi, c'è proprio una giornata in cui dici, mandami che fastidi, vai via, vai via, vai via giornata, che mi fastidisci, solo vederti mi fastidisci. Mi spiace che nonostante la mattina abbiamo cercato di rasserenarti, poi però la giornata è stata carica di fastidi, speriamo di fare l'effetto poi postumo alla giornata, nel senso che questa mattina cerchiamo di cancellare il ricordo di una giornata passata carica di fastidi. Voi altri invece, come state, Alberto ce l'ha raccontato, ce l'ha detto, alla 3317853555, voi invece che ci state ascoltando, che cosa state facendo, dove state andando, in che momento della giornata siete in questo istante, ricordo ieri mattina ad esempio che mentre dicevo magari vi state lavando i denti, Alberto in quell'istante si stava lavando i denti, chissà, non voglio dire a cos'altro potreste fare a quest'ora se siete a casa, ma chissà cosa state facendo in questo momento, quindi magari condividetelo con noi, siete già in giro, perché sicuramente alcuni di voi sono già per strada, sono già in giro la nostra metropoli, la nostra città, a capire, a carpire questa metropoli che è sempre più difficile da vivere, poi dopo lo vedremo e lo capiremo, e non sto parlando di la sicurezza, di quelle robe lì, no no, costi delle case, costi della vita, e così ancora oggi l'ennesima notizia sull'aumento dei costi degli affitti da Expo oggi, dopo ce lo andiamo a vedere, anche il tema del traffico, e fra pochissimo ci colleghiamo con Luce Verde, anche il tema dei concerti, che bellissimi, sacrosanti, ma sto guardando su Facebook le foto di ieri sera del deflusso di coloro che sono stati al concerto di Lana del Rey, ed è qualcosa di abbastanza disagiante per tutta la zona, anche perché sono state chiuse le metropolitane all'uscita, gli addetti che fino alle 11 sono rimasti nella zona per gestire, sono poi spariti alle 11, quindi poi dopo lo fine del concerto non c'era il personale che diceva dove andare e cosa andare, a questi che giustamente erano al concerto, belli, felici e contenti, escono, si trovano nell'alanda desolata della periferia ovest di Milano, bellissima zona, una periferia, quella dove c'è la maura, bellissima, fatta di belle case, giardini, parchi e tutto, ma tu ti trovi a vagare nei giardini di qualcun altro a un certo punto. Ieri sera deve avere una situazione abbastanza complicata che andrà avanti per tutta l'estate, almeno fino a metà luglio, quando finiranno i concerti. Aggiungiamoci che dall'altra parte, diciamo, dello stessa zona c'è il Latin Festival a Quinto Romano, e che da qualche giorno arriva anche il Vasco, che è già lì a San Siro a montare il palco, cioè non credo che lui sia lì con la brugola e il cacciavite a montarlo, ma che ha già tutte le sue squadre lì, quindi insomma non è una situazione facile e sicuramente nei prossimi giorni andremo ad approfondire il tema perché davvero è complicatissimo e non si capisce come sia possibile che non si sia trovata una quadra a questa situazione. Come nel traffico, come si fa a trovare la quadra? Con Luce Verde. Spezzali, discoteche abbandonate. Come invece abbandonate non sono sicuramente le case milanesi, perché appunto vi dicevo poco fa che vi avrei parlato di quanto è cambiato il mercato immobiliare in Italia, soprattutto dopo una ricerca che è uscita, anzi una considerazione finale del governatore della Banca d'Italia che lo scorso 31 maggio, quando appunto a conclusione della presentazione di un report, ha detto che i valori immobiliari del mercato dal 2012 ad oggi hanno visto una caduta dei valori immobiliari appunto del 5%, e giustamente alcuni hanno detto, ma noi milanesi ci siamo guardati in faccia dicendo Cosa? Ma come? Impossibile? E infatti questo dato è un dato a media nazionale, diciamo, che comprende anche i piccoli paesini sparsi in giro per tutta la nostra penisola. Sicuramente non è quello che succede a Milano, e infatti il Corriere della Sera a Milano fa un bel articolone dove spiega tutto bene, anche in forza di un altro report uscito pochi giorni fa invece compiuto dal sito immobiliare.it e dice appunto cosa, che case a Milano dall'Expo a oggi un bilocale si è rivalutato del 60%, infatti fa anche un confronto nel titolo, dice Bologna e Verona si fermano al 40%, quindi insomma c'è un aumento delle grandi città sicuramente, ma Milano guardate, c'è 60% contro il 40% di Bologna e Verona. L'analisi compiuta appunto relativa a quello che potremmo definire l'entry level del mattone, così lo chiama Corriere della Sera a Milano, il bilocale, rivalutazioni percentuali maggiori si registrano a Pastor Rovereto con l'80%, Maggiolina Istria più 75% e Corvetto Rogoredo più 72%. Insomma è veramente qualcosa che ci fa capire come la nostra città ormai è o meglio è stata, è stata sulla rampa di lancio. Adesso vediamo se è ancora così, perché con quello che sta succedendo in città potrebbe essere che la tendenza magari si possa invertire, ma sicuramente insomma dal 2015 ad oggi pensare che un bilocale ci vuole l'80% in più rispetto al 2015 oggi per comprarlo in zona Rovereto o Pastor, cioè fa capire come davvero questa città ormai è qualcosa di ingestibile. A proposito di acquisto di bilocali, in città si segnala che secondo i dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, le abitazioni fino a 50 metri quadrati nel 2023 hanno rappresentato il 21% delle transizioni a fronte ad esempio del solo 10% nella regista della città di Roma, quindi è ancora comunque la maggior parte del mercato immobiliare si muove proprio sul bilocale. Nel resto della provincia di Milano però la quota di vendite si abbassa drasticamente riducendosi al 9%, quindi fuori città ovviamente non si va a cercare il bilocale ma si cerca qualcosa magari di più grande. Questa è la situazione appunto attualmente a Milano, una città che insomma l'80% in più per una casa a Pastor fa capire come davvero è una città dove i costi, dove i prezzi stanno salendo molto probabilmente su tutto. Anzi ve lo chiedo a voi al 3317853555, dove vi siete accorti che questa città negli ultimi anni vi costa di più. Dove vi state accorgendo qual è quel momento in cui ogni volta dite, eh ma vedi qui l'anno scorso pagavo meno, due anni fa ancora meno, tre anni fa ancora meno di meno, adesso invece mi costa di più. Qual è quel punto preciso in cui appunto avete, mi siete accorti che la città stava diventando davvero qualcosa di molto molto caro e che insomma ci rende difficile continuare a rimanere qua spesso e volentieri o ad amarla come facevamo magari qualche anno fa. A chi mi dice i blu alle 7.38 qui ben 20 anni dopo la loro uscita, era il 31 maggio del 2024 quando si vide, quando vide la luce questa canzone e devo dire che questa cosa si è vista anche nei whatsapp che sono arrivati. Il primo grazie per questo capolavoro ci dice Erika e poi Adriana, buongiorno Fabio, i blu che perla e infine anche Marilena che ci dice buongiorno Fabio scommetto che questa canzone è stata scelta dalla redazione e da Elisa che ricordi che mi avete sbloccato. Allora no, devo dire che non so se l'ha scelta lei, non so se ha fatto sotto banco una chiamata all'ufficio programmazione per far mettere in scaletta questa canzone, so sicuramente che durante tutta la canzone dalla regia arrivavano cori da stadio e c'è solo lei in questo momento in redazione, quindi pensate da sola cosa è riuscita a fare sembrava di avere San Siro che cantava i blu qua con me in redazione, ma c'è solo lei e invece era presa benissimo e continuava a dire no ma questa è bellissima, no ma questa è bellissima e cantava quindi insomma devo dire che sicuramente è piaciuta molto alla nostra redazione e da quanto vedo i whatsapp anche a voi, ma questo è l'orario, ve l'ho già detto, ve l'ho detto già anche ieri, intorno a quest'ora tutti i giorni ragazzi vai in onda uno che potremmo definirlo un classicone, cioè qualcosa che davvero ci dà la carica per iniziare la giornata io c'ho qui la scaletta di domani, io anche domani c'ho un classicone che vi dico, sì 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 7.32, 38, 34, più o meno va in onda sempre un classicone, quindi vedrete, vedrete, vedrete anche nei prossimi giorni, comunque grazie anche agli altri whatsapp che stanno arrivando che giustamente rispondono alla domanda che ho fatto prima, cioè dove vi siete accorti che il caro vita, la nostra città soprattutto diventa sempre più cara, beh Alberto abbiamo dato praticamente una lista che non finisce più, cioè ho qui un poema di cose che effettivamente però sono tutte molto molto reali e ci danno il polso della situazione di una città sempre più cara, IMU ad esempio, è vero, l'Atari, è vero, utenze, elettricità e gas sono le voci che pesano di più, ma anche non dimentichiamo la spesa quotidiana che non è da meno, lasciando perdere le ciliegie a 6,99 per 500 grammi, effettivamente anche qua hanno dei prezzi pazzeschi, nonostante, però vi do questo dato, faccio questa cosa strana da qualche anno a questa parte, di segnarmi ogni volta che vado al supermercato i prezzi delle fragole su una nota del telefono, ho prezzi credo dal 2017 in avanti, una cosa del genere, poi dopo controllo ve lo dico bene, sta di fatto che in realtà mi sono accorto che le fragole non sono, dal 13 gennaio 2018 ce le ho, che al Bennett stavano fuori a 5,12 euro al chilo, il La Fasquette a 250 grammi che arrivava dall'Italia a Salerno, ok, perché mi segno anche descrizione di tutto, l'ultima che ho censito è di marzo di quest'anno, al Tigros, c'erano quei dalla Spagna però, che costavano da 500 grammi 3,98, prezzo al chilo segno io, quindi abbiamo avuto dei picchi da 6 euro negli anni passati, quest'anno, sembra marzo, al Tigros, i primi di marzo, dalla base di Cata a 500 grammi costavano 7,99, quindi bisogna stare un po' attenti perché i prezzi oscillano e la settimana dopo facevi l'offerta e le portavi a casa con 3,99, 4,99, invece la settimana prima erano a 7,99, ma ci sono anche, dice Alberto, la carne, il pane, l'ortofrutto, insomma, hanno raggiunto prezzi ragguardevoli, effettivamente sì, la situazione davvero è molto complicata e a Milano maggior ragione anche visto i prezzi anche delle case. E questo era Lazza con 100 messaggi, messaggi che ci state mandando anche voi appunto questa mattina qui al 3317853555. Oggi è una giornata dove l'almanacco del giorno dà delle notizie abbastanza interessanti di costume, società, politica. Pensate che nel 1977, 47 anni fa, nasceva l'Apple 2, che era, diciamo, il primo personal computer vero e proprio che fu venduto, diciamo, nei grandi magazzini, detta male, in realtà non proprio il primo, comunque vabbè. Fu quello che poi dopo qualche anno arrivò invece nell'84 il Macintosh, che fu quello più famoso, diciamo, della Apple. Poi nel 1989, proprio oggi, andava in scena la protesta di Piazza Tiananmen. Eh sì, quella scena lì famosa, ricordate lo studente con i sacchetti della spesa davanti ai cararmati? Quella roba lì. Quella roba lì succedeva proprio oggi, nel 1989. 1989, e invece 800 anni fa oggi, 800 anni fa, pensate, noi abbiamo festeggiato i 100 anni della statale, e invece 800 anni fa si fondava l'Università di Napoli, sì, quella che appunto si chiama Federico II adesso di Napoli. L'Università dei Studi di Napoli compie oggi 800 anni, insomma, niente male, comunque auguri a chi ha fatto l'Università, a chi la fa Napoli ancora di più, sono tanti gli studenti universitari che ci ascoltano la mattina, sono tanti anche quelli che sono qua in redazione con noi, quindi insomma, tanti auguri per tutto quello che state facendo in questi giorni che, insomma, vedono l'ultima, credo, come si chiama, l'ultima sessione, giusto Elisa, chiedo, l'ultima sessione estiva, che poi dopo, vabbè, venite in vacanza anche voi, mi auguro, spero, giusto, sì. Ok, sì, sì, dici di sì. Ok, beh, comunque, auguri universitari, auguri soprattutto all'Università degli Studi di Napoli che compie 800 anni, 800 anni non è male, cioè, sono un'età guardevole, mi viene da dire, riuscire a tenere qualcosa per 800 anni ce ne vuole, ce ne vuole. Invece, invece, com'è il meteo oggi? Me lo avete chiesto in tanti, abbiamo controllato, oggi c'è bello, punto, cioè, finita qua, nel senso, non stiamo tanto a menarcela, oggi c'è bel tempo, finalmente. Finalmente non diventiamo matti e quindi, finalmente, riusciamo ad avere una giornata in cui si riuscirà a vivere sereni, senza troppi problemi. Andiamo con la musica, invece, adesso, energia, energia allo stato puro. Vengo dalla luna, Caparezza, canzone alquanto attuale, ci dice anche la nostra Adriana, che ci ha scritto, dicendo, non l'ascoltavo da secoli, è attualissima questa canzone, poi sotto le elezioni è perfetta, effettivamente, insomma, è molto molto attuale. Comunque, grazie mille per i vostri WhatsApp e, appunto, di elezioni andiamo a parlare perché ieri il sindaco Sala, a margine della chiusura della campagna elettorale, della festa, diciamo, della chiusura della campagna elettorale di Francesco Maran, ha detto che, cosa succederà, in poche parole, il Maran, a prescindere se verrà eletto o no, lascerà comunque la giunta e quindi si libera un posto in giunta. Come verrà rimpastata, quindi, la giunta di Milano, secondo Sala? Cioè, Sala, anzi, dice questo, dice non con il manuale Cencelli, quindi non è che se esce uno nel PD entra uno nel PD. Decido io in completa autonomia, è questo quello che ho chiesto fin dal principio della mia candidatura da sindaco, quindi il sindaco, in momenti soprattutto difficili come questo, deve decidere in completa autonomia e crearsi una squadra di fiducia. Quindi, insomma, non si sa ancora bene chi ci sarà, ma comunque sicuramente ci sarà qualcuno di nuovo. Potrebbe essere che entri qualcuno in giunta e vada a prendere un altro assessorato quando invece, e poi, qualcuno che è già in giunta passi a, invece, prendere l'assessorato di Maran. Nel frattempo, anche, invece, la Lega ha presentato un pacchetto di emendamenti al piano casa, tra cui il Salva Milano, che, ha detto però Salvini, riguarda molte città che si trovano nella stessa situazione di blocco delle autorizzazioni edilizie. Andremo a vedere poi bene cosa passerà in Gazzetta Ufficiale e che cosa si potrà fare per sbloccare questa situazione. Nel frattempo, al 3317853555, arrivano anche i WhatsApp con un poker, un poker che ci scrive, perché in questo momento ci scrivono Ciao Fabio, un saluto grande da Giorgia, Silvia, Daniele e Noemi. Bene, tutti insieme appassionatamente staranno andando a fare una festa, non lo so, qualcosa del genere. Beh, alle otto del mattino non è male andare a festeggiare tutti insieme. Comunque, bene, grazie per i saluti. Un poker che ci saluta. Giorgia, Silvia, Daniele e Noemi. Grazie mille per il vostro WhatsApp, grazie a tutti quelli che ci state scrivendo. Vi possiamo ringraziare come? Beh, qui su Cristian Radio in una sola maniera, mettendo un po' di musica, mettendo quella musica che magari vi fa cantare e vi fa ballare nella mattinata, anche se chiusi e fermi nel traffico, magari, o sulla soglia dell'entrare al lavoro o nell'entrare a scuola o università. Cantate tutti insieme a noi. Questa è Cristian Radio. Good morning, Milano! Ipù con Pensiero alle otto e zero nove. Questo è il Crystal History, un salto nel passato, un salto nella grande musica che sicuramente avete cantato, anzi qui si urla, lo si sa, perché vabbè, poi, comunque, scimmiottando un pochino Facchinetti lo facciamo tutti, lo so, benissimo. Ma comunque, sono le otto e dieci in questo istante di oggi, mercoledì 5 giugno, che tra parentesi è la giornata mondiale dell'ambiente. Quindi, vedrete che poi ne parleremo in qualche maniera. Io ho davanti a me un articolo di Repubblica di qualche giorno fa, un paio di giorni fa, sì, dove c'è una foto che sembra di stare alle Maldive. Sole azzurro, acqua cristallina tendente al verde e all'azzurro, con il titolo che recita così. Tutti in gita alla vasca anti-esondazione del Seveso. Virgolettato. Pensavo fosse un ecomostro, invece, con il sole e il verde intorno, sembra tutt'altro. Quindi, siamo tutti felici, perché finalmente abbiamo un oasi di grande natura all'interno della nostra città, e quindi ci colleghiamo con Matilde Minera del Comitato Bresso. Si vasca questo punto, giusto? No. Ah, no. Sempre no, sempre no. Ah, ok. Pensavo, invece, niente. Com'è stato leggere questo titolo di giornale? Ditemi un po'. Ma, guarda, il titolo di giornale, sì, ci ha fatto ridere, però l'impatto durante l'inaugurazione a cui siamo stati presenti con la nostra mobilitazione è stato forte, nel senso che l'hanno ordita molto bene, tra virgolette. Allora, per noi residenti attivisti del Comitato è stato una specie di effetto shock barra miracolo. Fino al giorno prima, dopo il riempimento del 15 maggio, quindi considera fino al 31 maggio, la vasca era una cava piena di fango. I primi giorni, la prima settimana, era una cosa insostenibile, la seconda pure, la terza quasi. Le operazioni di pulizia sono state molto confusionarie, discontinue, intensive. Poi, durante la notte, è successo il miracolo e la mattina dell'uno ci siamo svegliati con le acque verdi o blu, come vuoi chiamarle. E quindi, insomma, ci siamo dati ma che cambiamento che c'è stato. Dopo 15-20 giorni di disagi allucinanti, aria irrespirabile, c'erano dentro dieci mezzi, chi scavava, chi sparava ste lance d'acqua che vaporizzano il fango. Proprio sempre anche un po' la rinfusa, senza un progetto di pulizia, come a dire, talmente tanto il fango stavolta che dobbiamo eliminarlo in qualsiasi modo possibile, immaginabile. E poi la cosa che faceva impressione è che il materiale raschiato dalla vasca veniva buttato nel seveso. Purtroppo è così che succede. E il seveso, ogni volta che c'era questo passaggio diciamo di materiale, dal bacino al seveso diventava marrone cioccolato perché mattina presto voglio dire cioccolato. Chiaro, chiaro. La nuance l'abbiamo capita. Era quella. Però invece l'uno tutto splendeva magicamente per l'inaugurazione. Per cui per noi è stato un effetto tipo c'è stato un gioco di prestigio durante la notte, così. Ma cosa succede? Come hanno fatto, nel senso? E poi quanto... Devo dire che appena ho letto il titolo io ho pensato a voi effettivamente perché pensavo fosse un ecomostro invece con il sole e il verde intorno sembra tutt'altro ho detto mamma mia Matilda stamattina come sarà felice ho pensato. In realtà un pochino ce l'aspettavamo forse non così ma un po' ce l'aspettavamo perché siamo abituati al fatto che i residenti vengono esposti sempre al peggio noi siamo esposti 24 ore su 24 365 giorni all'anno e quindi vediamo la verità dell'opera ossia un'opera che quando viene utilizzata è veramente neanche un ecomostro proprio una piaga igienico-sanitaria neanche a dire bella e brutta conta poco cioè conta quello che incamerano dentro che è veramente una specie di valanga di 250.000 metri cubi di fango detriti sporcizia ma anche proprio rifiuti cioè non solo materiale fognario inquinanti chimici ma anche proprio rifiuti sporcizia assortita una discarica liquida sì esattamente così proprio capisci è tangibile che sei il ricettacolo degli scarichi fognari da Como fino a qua fino alla tua umbinatura ovviamente tutto sotto casa tua ti fa un grandissimo piacere immagino soprattutto quando studi le cose diciamo i rischi igienico-sanitari da 10 anni e ti rendi conto che cosa significa poi cosa succede il secondo, terzo, quarto, quinto giorno il livello comincia a scendere nasce dietro di 7 tonnellate di fango forse questa volta tra l'altro è stato il riempimento più importante perché c'è stato un riempimento fino a quasi al limite poi l'hanno semisvuotata e l'hanno riempita ancora due giorni dopo per cui c'è stato un doppio riempimento quindi un doppio carico di fanghi di precipitazione poi a quel punto delirio assoluto arrivavano i mezzi alla rinfusa di ogni genere quindi con inquinamento atmosferico perché mezzi pesanti sotto casa tutta la mattina acustico ma chi se ne frega guarda quello neanche più ci preoccupiamo con quello che abbiamo patito per quattro anni ma fino al giorno precedente all'inaugurazione era comunque impresentabile il bacino era una cava piena di strisciate di fango di polvere appiccicata poi quel giorno siamo entrati tutti per raggiungere il luogo dell'inaugurazione e allora un occhio esperto nostro diciamo ci definiamo esperti di vasca perché da fronteggiamo tutti i giorni diciamo che non era proprio tutto oro quello che luccicava ecco Matilde voglio capire c'è stato un po' l'effetto quando c'era Expo c'era l'effetto camouflage è stato usato quell'effetto lì bene bene esattamente Matilde rimani con noi una canzone e poi ci racconti che cosa l'occhio esperto del comitato invece si è accorto che insomma c'era e che non è solo appunto quell'acqua verde cristallina che abbiamo letto sui giornali andiamo con un po' di musica sinceramente sinceramente analisa le 8 e 19 minuti e sinceramente vogliamo capire un po' come è successo però in questa benedetta vasca e lo stiamo facendo con Matilde Minena del comitato Bresso Novasca più che altro perché lo dico subito a chi ci sta ascoltando eh ma voi dovete sentire tutte le campane l'altra campana ha avuto articoli sui giornali di qualsiasi giornale esistente al mondo praticamente quindi sappiamo cosa dice il comune cosa dice MM cosa dicono i cittadini che passavano di lì felici e contenti in bicicletta io invece voglio andare a sentire cosa dice il comitato che sono anni che insomma lotta e anche questa volta dice di aver visto diciamo prima insomma sì tutto bello ma insomma un po' l'effetto camouflage forse c'è stato giusto Matilde di questo mi stavi dicendo? sì anche perché come dicevamo appunto era la punta dell'iceberg di dopo 20 giorni di disagi allucinanti in cui fino alla sera prima c'erano le strisciate di fango nella vasca è tutto documentato è quello che diciamo te lo dico con tranquillità perché tra l'altro l'abbiamo anche mostrato in sede di mobilitazione davanti ai politici abbiamo fatto proprio una composizione fotografica con tutti i fanghi la sporcizia e abbiamo detto ok consideriamo la situazione a 360 gradi oggi sarà così ma cosa è stato ieri l'altro ieri due settimane fa venti giorni fa cosa sarà per la maggior parte dell'anno niente ti raccontavo che infatti poi entrando nella vasca blu azzurra bellissima meravigliosa noi che appunto conosciamo bene ormai ci siamo accorti di qualche piccolo particolare che è ovvio che ai fini di chi la vede non conta ma chissà un po' sì ci siamo accorti che le scogliere che teoricamente sono bianche ghiaccio perché sono i famosi massi ciclopici che sono proprio bianchi come quella roccia bianca erano tutti quasi marroncini rosati spalmati di uno strato di polvere appiccicata di fango adesso bello o brutto che sia non stiamo parlando di questo il problema è che questa è la dimostrazione la prova del fatto che quella vasca lì anche se ci metti mezzi dieci mezzi al giorno per venti giorni non la pulirai mai del tutto perché è veramente insostenibile l'impatto della quantità di fanghi che si deposita e quindi quell'acqua azzurra verde che sia vera che sia aiutata diciamo poco importa fatto sta che non sarà mai solo acqua di falda sarà sempre acqua di falda mischiata a un mix una sospensione una soluzione dei residui di quello che il seveso ci lascia dentro per cui vedere certe scene ti dico anche solo della gente che ci fa tanto sport intorno qualcuno poi avventatamente addirittura è entrato nell'acqua cosa? è successo è successo ho letto post che diceva peccato non si possa fare il bagno dentro così ho letto infatti io fossi voi è meno male che non si può fare il bagno dentro esatto la gente ecco questo non recepisce questo a noi fa abbastanza effetto perché comunque è un bacino che anche quando è a laghetto e non solo a regime non è salubre e noi questo proprio nei prossimi giorni poi andremo un po' a bussare anche a Parco Nord a Regione Lombardia siamo stati appunto a bussare alle porte del Comune di Milano all'inaugurazione per ripetere che quest'acqua non va bene perché l'acqua del seveso è al di sotto di tutti gli standard di qualità ambientale fa ridere questa cosa fa ridere ma fa riflettere molto Matilde perché poi siamo nella stessa città in cui invece diciamo no ma io nel Naviglio non ci metterei mai un piede quando invece sembra benissimo che l'acqua dei Navigli è un'acqua praticamente quasi potabile mi verrebbe a dire perché è super controllata il Consorzio Villoresi ovviamente è un bene che vende l'agricoltore quindi deve fare in modo che sia pulito e tutto poi vediamo invece un laghetto appena aperto lì ma è bello azzurro e verde diciamo a peccato non si può fare il bagno quando sappiamo invece che l'acqua del Seveso insomma si portano giù da Como fino a qui qualsiasi cosa incontrano lungo il cammino hai proprio centrato il punto infatti poi l'assessore Granelli quando risponde alle nostre contestazioni dice sì ma 320 giorni all'anno sarà un laghetto di acqua di falda e noi diciamo no perché l'acqua di falda non saranno mai sole saranno sempre mischiate ai residui che quella mole di acque torbide che con sé come dicevi tu trascinano tutto lascerà sempre perché ecco un punto essenziale la pulizia è sì una pulizia industriale quasi la pulizia delle strade con imprese che saranno competenti nel pulire le strade infangate le industrie ma non è specialistica non cura l'aspetto igienico-sanitario non considera che la popolazione non deve mai entrare in contatto con le acque riflue ragion per cui noi adesso porteremo avanti la battaglia di chiedere finalmente un tavolo tecnico di studio sia della materia pulizia ma con persone esperte competenti ATS ARPA gente che queste cose le conosce perché la studiate perché ha i titoli diciamo relativi e poi soprattutto un tavolo che studi finalmente il rischio salute perché abbiamo fatto una nuova scoperta che è abbastanza ghiacciante pensando appunto al fatto che ormai la struttura è fruibile e fruita parecchio in questi giorni che la regione Lombardia aveva emanato nel 2014 delle linee guida regionali molto esplicite che dicevano che nelle procedure di valutazione di impatto ambientale come quella a cui la vasca è stata sottoposta è obbligatorio o comunque fortemente indicato diciamo si tratta di linee guida aprire uno studio sulla salute della popolazione quindi tu saresti obbligato istituzione ad andare a aprire gli archivi a studiarti statisticamente quella fascia quella popolazione particolare che salute ha che mortalità che morbidità ha tolto questo devi poi andare a vedere cosa è successo a questa popolazione durante il cantiere e che cosa è successo dopo negli anni in cui l'impianto entra in funzione questo non è stato fatto minimamente perché perché hanno ritenuto che non era da fare però le stesse linee guida di regione lombardia dicevano che andava fatto quindi noi siamo stufi che le istituzioni o anche l'ente parco nord regione comune tutti si girano dall'altra parte con la bella favoletta no ma dopo è pulita poi la puliamo miglioriamo ci ragioniamo perché qui non si tratta di empirismo qui si tratta di salute un diritto costituzionale deve essere affrontata da tecnici esperti con studi sistematici noi siamo stati diciamo respinti al mittente da un tribunale delle acque che si è dimostrato totalmente sordo e cieco alle nostre documentatissime stanze pazienza ci rimbocchiamo le maniche e pretenderemo questo genere di studio perché con la salute non si scherza e non si rischia tanto più che ormai non parliamo più solo della salute di noi 2000 residenti i bambini delle scuole delle aree gioco che ormai guarda siamo anche abituati a avere la trachevita e la tosse e gli occhi gonfi che non va bene non va bene ma ci stiamo abituando perché è sempre così poi ci si abitua a tutto ma le persone che adesso ogni giorno felici o meno vengono a fare le foto in bici con i bambini piccoli corrono fanno proprio anche sport non sanno che vanno incontro a dei rischi perché quello che esala da quel bacino non deve essere respirato anche se purtroppo noi lo respiriamo tutti i giorni chiarissimo è un po' anche di preoccupazione non solo per voi residenti ma anche per chi appunto quell'area adesso la sta vivendo venendo magari apposta anche da altre parti della città quindi insomma il paradosso è anche questo Matilde grazie mille ci hai spiegato tutto bene quindi diciamo i prossimi passi saranno richiesti di questi tavoli tecnici specifici sulla pulizia sulla gestione dei fanghi e anche nello studio appunto diciamo sulla salute fondamentale appunto di chi abita lì e di chi fruisce appunto della vasca grazie mille allora Matilde buona giornata grazie a voi come sempre tutto il comitato e buon lavoro allora che insomma il lavoro vedo che è ancora tanto ciao grazie grazie ancora Matilde Minella comitato Bresso Bresso Novasca LUCIO BATTESTI BOOM LUCIO BATTESTI 10 ragazze 8 e 35 minuti qui su Crystal Radio a Good Morning Milano e non sono 10 ma ben di più invece gli ambulatori che ci sono nella nostra città soprattutto privati vado a leggere dal Corriere della Sera Milano Milano i privati alla conquista della sanità territoriale si moltiplicano gli ambulatori mentre i servizi pubblici inseguono dal gruppo Sandonato al CDI la rete delle strutture con servizi a pagamento il pubblico rincorre su 23 case di comunità 12 quelle attive e ancora incomplete quindi la metà non sono ancora finite la mossa più recente dice Corriere della Sera Milano è quella del gruppo Sandonato che insieme alle assicurazioni generali ha appena dato vita a Smart Clinic SPA società che intende creare entro il 2030 un network di 100 strutture sanitarie e nella cui joint venture sono già confluiti i 10 poliambulatori che il gruppo ha aperto in Lombardia 3 dei quali a Milano 100 strutture sanitarie non a Milano ovviamente cioè in tutta Italia è l'obiettivo di questa SPA nuova ma come il gruppo Sandonato ce ne sono altri Humanitas ad esempio che con Medical Care in tutta la città declina le sue cure diciamo a chilometro zero così definisce il Corriere della Sera Milano il CD il centro diagnostico italiano che ha ad aprile aperto l'ultimo in Vezza dell'Olio alla Spada Scala Romana e in questo momento è presente in 21 presidi milanesi in città con nel 2023 è 450 mila pazienti poi c'è anche il gruppo Sant'Agostino che alla fine del 2022 è entrato a far parte anche del gruppo assicurativo Unipol conta scusate conta 23 ambulatori in tutta la città di cui due in corrispondenza di alcune fermate alla metropolitana 274 mila pazienti in tutta Italia insomma niente niente male sono tanti altri ma anche il pubblico fa il suo o meglio cerca di farlo perché nel rete pubblica ci sono i servizi coordinate dagli ambulatori consultori centri vaccinali unità di neuropsichiatria infantile e tanto tanto altro tra cui le famose case di comunità le case di comunità ne sono state avviate 12 a Milano ne mancano ancora 11 da realizzare questo era l'obiettivo e quello che la legge dice che dovrebbe esserci a Milano ci vuole però tempo dice ad esempio Giampiero Mezzaglia professore di igiene e sanità pubblica l'Università Bicocca nascono con la logica questi centri case di comunità nascono con la logica di farsi carico dei malati cronici attività che non è tipica dei centri ambulatoriali privati così come resta insostituibile il ruolo del medico di famiglia nelle cure primarie strategiche per la prevenzione ma sappiamo anche tutto quello che succede e la fatica che i medici di famiglia tutti i giorni devono affrontare per fare il proprio lavoro soprattutto da quando sono diventati degli informatici dei data entry che devono mettersi lì su xn numero totali di portali che neanche noi sappiamo quanti sono per ogni cosa c'è un portale e loro devono caricare dati quindi passano più tempo al computer a caricare dati che a vedere i pazienti e non perché lo volessero fare ma perché gliel'hanno imposto sappiamo anzi come i medici di famiglia sono un po' sul piede di guerra per questa cosa inoltre una città dove ci sono pochi medici di famiglia sempre di meno sono quelli disponibili in una città dove appunto il pubblico con ad esempio le case di comunità potrebbe sopperire un po' la mancanza di possibilità di trovare l'esame in fretta di cercare di risolvere la problematica a volte in tempi diciamo umani e invece non ce la fa e il privato ovviamente trova lo spazio dove infilarsi e dove però poi fare le regole del privato su questo quindi poi lasciamo a voi la sentenza e lasciamo a voi capire e comprendere come potrebbe diventare questa città in futuro Farrah Williams e Miley Cyrus con Doctor Work It Out quella lì che dicono assomigliare un po' troppo a quell'altra dei Maleskin così dicono in molti ma potrebbe essere I'm a bitch just laver and I'm quella lì comunque vabbè non lo so non lo so a voi oggi lascio a voi tutto non entro nel merito di nulla come ad esempio c'è stato un tempo in cui tutti i giorni vi abbiamo raccontato dello studio di San Siro praticamente ogni giorno avevamo notizie contrastanti anche tutto e il contrario di tutto su quella che era la situazione dello stadio e devo dire non abbiamo ancora finito oggi perché non è che tutti i giorni ve lo diciamo ma diciamo che ogni due tre giorni c'è qualcosa da dire sullo stadio o meglio da aggiornare una situazione che non è aggiornabile perché tanto non si capisce minimamente a che parte sta andando ma da qualche mese a questa parte invece c'è un altro life motive in città che è quella delle inchieste sull'urbanistica e allora anche oggi arriva l'ennesima notizia su una nuova inchiesta inchiesta sull'urbanistica Repubblica Milano la procura apre un fascicolo anche sulla goccia imbovisa sotto indagine il progetto del Politecnico da tempo i residenti lamentano di non conoscere nel dettaglio come cambierà la fisionomia del quartiere a seguito dell'impatto dei lavori e quindi ecco che parte una inchiesta non tanto sul fatto che i residenti non saprano le cose ma perché forse evidentemente mancano anche qua dei documenti o meglio non si capisce bene come si è arrivati alle autorizzazioni e allora si apre l'inchiesta si ferma tutto e avanti così ebbene sì perché è aperto verde e permeabile così Renzo Piano presentò il progetto per il nuovo campus del Politecnico alla goccia nel quartiere Bovisa un ambizioso piano di quello di quella che appunto fu un'area industriale della città che c'era di gasometri per intenderci che prevede la realizzazione di 20 nuovi edifici di 4 piani di 16 metri di altezza per un totale di circa 105.000 metri quadrati più le scuole civiche le residenze per studenti e un'area dedicata alle start up per rendere il quartiere vivo questa fu la promessa qui negli anni poi comunque i cittadini hanno cominciato a dire 20 piani 20 palazzi 20 costruzioni nuovi edifici 4 piani insomma lì c'è un bosco magari potremmo anche tenere un po' di verde un po' di bosco ma al verde c'è non è stata di fatto che adesso anche la procura comincerà a aprire un fascicolo sulla goccia per capire come è stato l'iter di attuazione e autorizzazione i residenti lamentano di non conoscere nel dettaglio come cambierà la fisionomia del quartiere a seguito dell'impatto dei lavori in 140 140 cittadini assistiti dall'avvocato Federico Gualandi hanno già firmato un ricorso indirizzato al TAR e alcuni di loro sono adesso i firmatari di un esposto inviato di recente in precura e arrivato sul Taro dei PM che si occupano delle inchieste sull'urbanistica in città i magistrati e un aperto fascicolo al momento senza indagati ma per chiarire dettagli di un progetto che tra l'altro negli ultimi tempi ha subito anche altri intoppi burocratici una residente della zona Luciana Bordin che fa parte del comitato La Goccia proprio la Repubblica spiega da anni chiediamo il piano urbanistico attuativo che non ci è mai stato fatto vedere temiamo il cemento certo visto che qui era sotto un bosco e hanno già cominciato a mangiarselo devono dirci dove passeranno le strade le fogne le nuove linee del tram che cosa vogliono fare in Bovisa non c'è verde l'unico verde è dentro la goccia d'estate la differenza di temperatura si sente noi temiamo tutto perché non sappiamo nulla è un problema di informazione ad esempio e quindi pensate se per avere delle informazioni devo fare un esposto alla procura di Milano cioè questo è che è l'assurdità che tra parentesi va ad aggiungersi a tutte le altre inchieste che hanno a che fare con l'edilizia nonostante non sia proprio la stessa identica cosa però finisce tutto nel calderone e tutto questo sicuramente rallenta e fa anche tanto rumore Raffaella Carra con rumore e quanto rumore facciamo in questa città davvero perché abbiamo detto poco fa che non ci sono praticamente ambulatori pubblici nella città ce ne sono pochi tantissimi invece quelli privati nel momento in cui le farmacie invece provano a fare qualcosa i medici protestano cosa sto dicendo leggo da Repubblica Milano protesta dei medici lombardi no ai cardiogrammi in farmacia il diniego è firmato dai presidenti di tutti gli ordini dei medici lombardi che hanno inviato una lettera al governatore Toglio Fontana dicendo che non va bene perché le discutibili iniziative poste in essere a favore dell'assunzione di nuovi ruoli da parte delle farmacie stiano oggettivamente determinando demotivazione dei medici di medicina generale e dei pedirati di libera scelta con inevitabili conseguenze sulle scelte dei giovani colleghi che devono decidere se intraprendere un percorso di formazione post-laura complesso e scarsamente incentivato è vero nessuno vuole fare più il medico di famiglia non so se non lo voglia fare perché le farmacie fanno anche questi servizi c'è tutto un attacco appunto della federazione degli ordini dei medici lombardi alla manovra che consentirebbe appunto alle farmacie diventare farmacie dei servizi si possono fare gli electrocardiogrammi altre analisi diciamo così in telemedicina quindi si fa in farmacia ma c'è un medico collegato da remoto che poi dà il resoconto il risultato diciamo ok il referto ci sono varie situazioni l'ordine giornalista dice che ci sono delle criticità lei porta a leggere devo dire che se andatevelo a leggere questo articolo su Repubblica non è che mi viene da dire beh ma c'è di peggio ahimè ormai si arriva a fare questo ragionamento questo è il problema grosso dicendo a me ma almeno io posso farmi un electrocardiogramma senza aspettare mesi è questo il tema cari medici e molto evidente la vostra protesta è sacrosanta e giusta ma non sarà facile farla digerire i cittadini ve lo dico già perché i cittadini dicono ma come no è così comodo io vado lì perché posso andare a prendermi la pressione e non posso andare a fare altro perché è un po' più complesso un electrocardiogramma del misurarti la pressione vero è anche però che la pressione una volta in farmacia adesso te la fai a casa e si collega col bluetooth al tuo cellulare e te la fai ci sono già su amazon trovate le macchine per farvi anche il electrocardiogramma se volete cioè questo è il dramma quindi è complicato poi lo so che tu te lo puoi fare e non capirci niente però boh poi dopo vai il dramma qual è che poi secondo me te lo fai a casa ormai vai su google e cerchi il risultato su google è quello il problema quindi la farmacia almeno dei mali in questo momento in questo momento quindi io do cioè fanno bene i medici a protestare per questo non so quanto sarà facile far capire questa cosa ai cittadini cittadini in una città dove si trovano invece oggi a caratteri cubitali sul Corriere della Sera Milano il fatto che Emin Aziri il miglior ristoratore under 30 secondo Forbes apre un ristorante a Milano quindi da una parte non abbiamo gli ambulatori ma dall'altra abbiamo tutti i master chef di tutto il mondo stellati non stellati che vengono a Milano a aprire i ristoranti oltretutto tutta la storia quella di Emin Aziri lui è stato un clandestino diventato chef sulle orme di cannavacciuolo così dice lui tre giorni e tre notti in auto a piedi nei boschi partendo da Pristina nelle mani dei passeuri in traghettatori di clandestini eravamo partiti senza niente lasciando i nonni appunto a Pristina arrivati a Trieste ci fanno scendere in centro e basta a quel punto inizia la possibilità di farsi una nuova vita qua lui è musulmano e in arabo il suo nome vuol dire Pio Virtuoso è stato premiato dalla rivista Forbes come miglior chef under 30 e il 7 giugno appunto inaugurerà il suo ristorante in Porcancini nel nuovo ma via al numero civico 33 quindi il Porcaccini al 33 di via Porcancini questa è Milano questa è Milano una città che davvero ormai non ha più senso su certe cose 8 e 56 minuti Crystal Radio questo è Good Morning Milano siamo arrivati alla fine di questa puntata dopo di noi lo sapete ci sarà Ambrogio Curti con Senti Questa come sempre la grande musica raccontata dalla bravissima e competentissima voce di Ambrogio Curti voi siete pronti ad affrontare questa giornata oramai molti di voi sono già in ufficio molti di voi sono già in macchina sul tram stanno già affrontando questa città e lo state facendo come sempre con Crystal Radio nelle vostre orecchie oppure nella vostra autoradio e grazie come sempre per aver passato queste due ore in nostra compagnia grazie anche a tutti quelli che ci hanno scritto al 331 7853555 i vostri whatsapp sono sempre fondamentali e proprio sono la benzina la benzina la linfa vitale per noi noi ci risentiamo domani mattina come sempre qui dalle 7 alle 9 su Crystal Radio con Good Morning Milano il morning show che sveglie milanesi cerchiamo di svegliarvi e cerchiamo di stare con voi tutta la mattina ciao a presto rimanete su Crystal Radio a presto